Ma che cacchio è sta bambina? Ok allora siamo in questa mappa molto strana c'è un telefono non so per quale motivo ma c'è un telefono Allora funziona questo telefono? Non funziona il telefono ok Qua è rotto ok sembra che non ci sia nulla di grave Ah e ora funziona il telefono vedi prima non funzionava Ok vai che devo fare Ciao sono un testimone di Geova Ah ok quindi allora io sono un rispettore immobiliare Devo entrare in casa ma come si entra in casa c'è qualcosa che devo fare Allora si è rotto qualcosa qua qua non posso passare ma che cosa è una villona Ci sono un botto di alberi da quel che vedo però effettivamente è una villona praticamente Ok allora là c'è un portone aperto ok sembra una buona parte Qua abbiamo una cassetta Qua abbiamo una bellissima ma che ca... ma 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 già mi devo fermare così Oh già sento la bambina che 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 lagna ma 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 che siamo pazzi Allora qua abbiamo una bellissima statua di quello che mi interessa in questo momento E soprattutto ecco la casa guarda mi ricorda proprio la casa del mio vicino Fausto Eh 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 oh dio eh eh pronta Pronta In the fireplace Ah qui sotto le scale Ah devo stare attento quindi ok Va bene ma 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 qua che cosa c'è c'è di sbagliato Io non vedo nulla tutto nero Non so per quale motivo mi hanno portato in questo punto qua Ma che cacchio sei? Ma che cacchio è sta bambina? Allora già mi so preso il primo infartino Adesso vediamo un pochettino se dobbiamo prendercene un altro Ah Enrico mi... ma stavolta il telefono è rotto Ma 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 che cacchio Ma stavolta il telefono è rotto boys Ma il telefono è distrutto ma che cacchio Ma 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 è cambiato di tutto praticamente Cambio di tutto Io ho trovato una bambina che porca vacca E già mi deve cercare sta bambina Guarda che non mi piace eh Io odio le bambine qua Non è che mi piacevo tanto Io ho paura eh Devo qua avere paura perché qui non Non mi piace qua la situa La stanza con l'orso E dov'è ora sfaccimmo sta stanza con l'orso? Ma vabbè non trovo la stanza con l'orso Dobbiamo trovare la stanza con l'orso Devo scappare Dobbiamo trovare la stanza con l'orso Dov'è la stanza con l'orso? La stanza con l'orso Dov'è? La stanza con l'orso Ma tu mi hai chiesto di cercare la stanza con l'orso Perché mi dice I am avi là di sopra Ma parli di sopra in una maniera assurda Ma perché? La stanza con l'orso Ti ho chiesto La sfaccimma chi dà morto Regà dobbiamo assolutamente trovare Questa sfaccimma chi dà morto da cosa Perché sennò qua non va bene Dov'è la stanza con l'orso? Non trovo la stanza con l'orso Ma è stranissimo Si capisce più nulla Ma che è sta cosa? Cioè speratemi Speratemi un pochettino Io non vedo qua l'orso Se mi dite dove è l'orso Con tutto il rispetto Ah! Ah! No! Ma sta suonando È una boss È una boss Ciao bro Ma suoni? Ma da quanto è che suoni? Ma tutto bene? Spero che ti sia divertita qua E vede? Scappa via Corri via Mai più Va bene? Va bene Io qua sono Io qua faccio quitte il gioco Sei qui tutto diretto Dai! Sono sicuro che mi vuoi tanto bene Dai non posso andare avanti? Dai perché non mi fai andare avanti? Dai! Lo sai che mi vuoi tanto bene? Cioè Ti vuoi tantissimo bene Lo sai? Sei una meraviglia Sei fantastico E qua ci sono delle tazze Però non trovo una ce... Va sta andando via Va sta andando via Te lo giuro Te lo giuro Non ho fatto più nulla Te lo giuro Che non t'ho fatto più nulla Me ne sono andato via Te lo giuro Che me ne sono andato via Sentite uno sh Perché mi hai detto sh Non vuoi che parlo? Ma perché mi sento sta qua? Non vorrei capirlo Dov'è la stanza con l'orso? In tutto questo Sta bambina Non so che cacchi di fine a fa Cioè Sei andata A caso Magari l'orso è attaccato da qualche parte E magari lì capirei Ma qua non capisco nulla Ma perché non capisco nulla? Se ora si può salire O mi trovo lei Sembra di no Me ne vado via Scusami 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 Mario Me sto andando via Te lo giuro Te lo giuro che me ne sto andando via Non lo faccio più Non lo faccio più Scusa 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 Allora L'ho vista? Fettente E guardala Sta fettente Sta fettente Sta fettente Che sta vicina Sta fettente Che sta vicina E non mi vedi più E non mi prendi più God Non può uscire Spero Adesso ce ne torniamo Come dei bravi ragazzi E ce ne saliamo di sopra Perché sono un boss Ma io non capisco Che problema ha Questa qua Con gli orsi Oh non lo so ragazzi Stranissimo Stranissimo Strano 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 Qua c'è un osso Dov'è 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 Allora ho visto un osso Ho visto un osso Scappa 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 Dov'è Comparsa Comparsa Lo sai che ti voglio bene Ti voglio tanto bene Tanto tanto bene Io pensavo che non uscivi Invece no È uscita sta fettente Vedi guardala Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Cioè io pensavo Dai andiamo a fare Le consegne qua Che è un bel posto Invece no Invece no Lo faccio più Non vado più Trovato una chiave Trovato una chiave Sta fettente Ho trovato una chiave Posso godere Posso godere Finalmente ho trovato qualcosa Di utile Mi sono reso utile Sono troppo forte Trovato una chiave Adesso il problema è Ma sta chiave Dove sfaccim La devo infilare Adesso il problema È trovare La serratura Perché se trovo la serratura Apriamo un problema E se apriamo un problema Apriamo tutto Praticamente Ciao bro Un bro Sai E qua che sfaccim Dobbiamo fare Magari saliamo di sopra Qua abbiamo Una chiave Qua non si vede un tubo Un ciuffero si vede Qua regà Questa qua Mi distraugge Che è tipo una meraviglia Ah eccola Ciao bro No 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 Non mi vede Non mi vede Non è vero Non è vero È qualcosa di tossico Non mi vedi Non è vero 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 Quello che vedi davanti a te Non ha assolutamente senso Io sono una persona Completamente normalissima E soprattutto Normalista Qua non vedo nulla Ma regà Ma sta qua Com'è che ha sistemato la casa Cioè si vede un pochettino Una merda sta casa Cioè l'ha sistemato un pochettino Sto scendo Scusa Non lo faccio più Non c'entro più Ma 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 Davvero Io Io bello tranquillo Volevo fare una bella consegna Qua Con la pizza Ste cose qua E invece no 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 Lei non vuole le pizza Lei vuole le Vuole le altre cose Cioè magari Vuole Vuole altro Magari io ordino De cinese Ordino Passiamo la volta Per la signorina Che vedo che non è Che sia molto contenta Del suo ordine Sto notando La porca paletta Oh bro Ma figa Ma fammi vivere un attimo Poi mi spunti così a caso Ma figa Ma dammi un attimino Di Di svarietà Di tempo Per vivere Per favore Spunti sto Ma Allora quindi dobbiamo mettere Le candele Nella camera Da Da mangiare Ma io qua Le sfaccimili cose Non le trovo E qua Già sfarfalla La bro La bro La bro Vediamola Dov'è la bro Quanto è bella la bro Guarda manca appare Quanto è brutta Guarda Manca appare la bro Perché ha visto Guarda Sono bruttissima E quindi Non mi faccio vedere Da black coon Pazzesco Epico Ma Ok Quanto ci metti Dai mi raccomando Qua è Solo le tre di notte Dai muoviti Muoviti Dai mi raccomando Facciamole diventare cinque Così io non dormo Dai Allora adesso Il mio obiettivo È risalire al terzo piano E ci ripetiamo La nostra bellissima chiave Il problema è questo Ma la chiave Ma si trova sempre in quel posto là È in un posto totalmente diverso Ah è in un posto totalmente diverso Buono Buono Quindi questo gioco è tipo Granny Buono Ora un spacchia show Staiare Figlioli Buono Speciale Sento rumori Sento casino Sento qualcosa Si capisce nulla Qua c'abbiamo questa Qua c'abbiamo uno sgarbuzzino Con qualcosa che forse si può aprire Non si può aprire nulla Ah 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 T'ho visto fetente 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 Allora la domanda è questa Secondo voi riuscirò A prendere questa cliente E dargli la pizza E magari scoprire Puro un po' Di suoi segreti Oppure non ci riuscirò Beh, questo ragazzi dipende da voi Iscrivetevi e lasciate like perché veramente vorrei capirlo Qua non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Ma c'è una bellissima Uoiona Che stavolta non si capisce Non si capisce, ti prego Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego Sì, sì, sì Mi vedi? Mi vedi? Tanto vale, tanto Ciao bro, sei bellissima Ti bacerei tantissimo, guarda Sei meglio della mia donna Sei meglio della mia donna Sei fantastica